Per quanto riguarda il condizionamento va precisato che per ogni kilowatt di corrente che viene fornito agli apparati un uguale quantitativo di calore viene disperso nell'ambiente. Il calore è dannoso per gli apparati e ne abbrevia la durata di esercizio per cui è importante mantenere la temperatura costante in un range che per Enter è definito tra 22 e 24 gradi. Per mantenere la temperatura costante vengono usati dei condizionatori da 50 kilowatt che aspirano l'aria calda dall'alto e esercitano una pressione di aria fredda sotto il pavimento. In alcuni corridoi, soprannominati corridoi freddi, vengono aperte delle griglie da cui l'aria fredda esce con una certa pressione e viene aspirata dal lato frontale dei server. In questo modo si attiva un circolo per cui l'aria fredda viene data ai server che la espellono calda viene riaspirata.